Buoni fruttiferi postali clonati, truffa da 3 milioni di euro tra Palermo, Carini, Belmonte Mezzagno e Lentini, 8 arresti. Salgono a 9 gli indagati per gli insulti via social rivolti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A Partanna si è svolta la cerimonia della riconsegna della Chiesa Madre, restaurata con fondi regionali. Bentrovati alla seconda edizione di Media News di venerdì 1 giugno. Come avete ascoltato nei titoli? Buoni fruttiferi postali clonati, truffa da 3 milioni di euro tra Palermo, Carini, Belmonte Mezzagno e Lentini, 8 arresti, moduli veri e riempiti con dati dignari risparmiatori e con la complicità di dipendenti infedeli. Vediamo il servizio. Blitz dei carabinieri a Palermo per una truffa da 3 milioni di euro ai danni di poste italiane. Su delega della Procura, i militari del Comando Provinciale sono entrati in azione in città a Carini, Belmonte Mezzagno e a Lentini, dando esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 8 indagati, 3 in carcere, 4 agli arresti domiciliari, 1 sospeso dall'attività di raccolta del risparmio postale per 12 mesi. Rispondono di associazione per delinquere, truffa aggravata e continuata. Ad altre 8 persone è stato notificato invece un avviso di garanzia. Le complesse indagini condotte dai carabinieri della sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura hanno fatto emergere un sistema diffuso in tutto il territorio nazionale dal 2010 a luglio 2017, consistente nella clonazione e nella successiva liquidazione di buoni fruttiferi postali, con la complicità di dipendenti infedeli di poste italiane. I primi indizi di reato sono emersi nel corso delle indagini per una serie di truffe ai danni dell'Inps, in cui erano coinvolti due degli arrestati di oggi, già condannati in primo grado. L'ipotesi investigativa hanno trovato un primo riscontro negli accertamenti condotti dagli ispettori dell'ufficio antifrode di poste italiane sulla falsità materiale dei titoli e sul possibile coinvolgimento di impiegati infedeli. La truffa si svolgeva sempre attraverso comunicazioni telefoniche con l'utilizzo di un circuito chiuso, mediante schede telefoniche dedicate e pochissimi incontri diretti. Grazie a controlli, pedinamenti e all'esame dei tabulati telefonici e delle localizzazioni GPS di decine di schede telefoniche fittiziamente intestate, sono state intercettate le comunicazioni tra i membri, il cui linguaggio criptico è stato decodificato. I carabinieri hanno così accertato che il gruppo operava seguendo un preciso schema, reperiva i moduli dei buoni postali in bianco, ovvero elaborava modelli da adattare. Recuperava i dati relativi a buoni effettivamente emessi in favore di ignari risparmiatori da poste italiane, confezionava il titolo, fasullo, con inserimento di quei dati, presentava quest'ultimo per il rimborso utilizzando teste di legno che si sostituivano all'effettivo titolare con documenti falsi. Ottenevano la liquidazione del buono mediante accredito su conto intestato allo stesso titolare effettivo, ma gestito dal suo sostituto, per poi dirottare le somme su altri conti oppure investendo in altri titoli di credito postale. In carcere sono finiti Luigi Allotta, 38 anni, Filippo Allotta, 36 anni e Gabriele Allotta, di 31, tutti di Belmonte Mezzagno. Ai domiciliari invece Adelfio De Luca, 44 anni, di Lentini, Roberto Cellura, 51 anni, di Palermo, come Gianfranco Morena, di 44 anni. Sospeso dall'attività di raccolta del risparmio postale, Maurizio Lavenia, 54 anni, di Palermo. E adesso le interviste realizzate stamattina a margine della conferenza stampa sull'operazione dei carabinieri che ha permesso di svelare la truffa alle poste. Ascoltiamo il tenente colonnello Luigi Velardi, comandante della sezione di polizia giudiziaria di Palermo e il luogotenente Giacomo Meli. L'attività di oggi attesta ancora una volta la perfetta sinergia tra la procura di Palermo e l'arma dei carabinieri. Infatti dalla condivisione di una felice intuizione è nata un'attenta paziente attività che ha avuto lo scopo principale di tutelare e proteggere la gestione dei risparmi da parte dei cittadini. Gestione dei risparmi faticosamente accantonati e che oggi è così pericolosamente messa a rischio da molte speculazioni che ci sono in giro. Un attento lavoro di analisi su una molteplicità di episodi fraudolenti ha consentito di legarli altrimenti sarebbero rimasti difficilmente perseguibili soprattutto con la collaborazione stretta dell'ufficio antifrodi di poste italiane consentendo di trovare riscontri all'esistenza del vincolo associativo che oggi si contrasta con l'esecuzione delle misure che sono state messe e trottate dall'ufficio del GIP che ha confortato con terza ed attenta condivisione il lavoro degli inquirenti. I soggetti attinti oggi da misura cautelare avevano creato un format originale che gli permetteva anche sul territorio nazionale di monetizzare le truffe grazie alla clonazione dei buoni fruttiferi postali. In più si può aggiungere che è stata difficile la loro individuazione perché usavano un linguaggio criptico tra di loro con appellativi chiamandosi come cugino, fratello, zio ed inoltre anche per riferito ai documenti falsificati quali buoni usavano il termine volantinaggio. In più le telefonate, le conversazioni erano a circuito chiuso quindi è stato difficile ma poi insomma remunerativo individuare i cellulari e talvolta anche usavano le desuete ormai cabine telefoniche per comunicare tra loro. Cambiamo argomento, tre ministri siciliani nel governo firmato Lega Movimento 5 Stelle, sono Giulia Buongiorno, Giulia Grillo e Alfonso Bonafede. Nell'ordine guideranno la pubblica amministrazione, la sanità e la giustizia. C'è anche la Sicilia all'interno della rosa dei ministri del nuovo governo Lega Movimento 5 Stelle. Si tratta di Giulia Buongiorno, Giulia Grillo e Alfonso Bonafede, rispettivamente alla guida della pubblica amministrazione, della sanità e della giustizia. Giulia Buongiorno, 52 anni, palermitana, è definita l'avvocato dei VIP, parlamentare da sempre schierata con il centrodestra ma anche nota per le sue battaglie a favore delle donne con la fondazione doppia difesa cui ha dato vita con Michel Unziker. La sua popolarità è cominciata nel 1995 quando il principe del foro Franco Coppi, impegnato su troppi fronti, le chiese di occuparsi in prima persona della difesa di Giulio Andreotti, che era accusato di collusione con la mafia e dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli. Entrata in Parlamento nel 2006 con Alleanza Nazionale e riconfermata in seguito con il PDL, è stata per diversi anni presidente della Commissione Giustizia della Camera ed è stata eletta senatrice a marzo con la Lega. Giulia Grillo, invece, 42enne, catanese, medico, è attualmente capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle. Laureata in medicina e chirurgia con specializzazione in medicina legale, è un attivista della prima ora del Movimento, arrivata in Parlamento per la prima volta alle elezioni del 2013. Nelle precedenti legislature è stata vice capogruppo e capogruppo alla Camera, capogruppo nella Commissione Affari Sociali. La scelta di iscriversi al meet-up grillino di Catania risale al 2006. Da allora è stata in prima fila nella lotta contro le trivellazioni in Val di Noto, come in quella contro le privatizzazioni dell'acqua pubblica nel Ragusano, fino alla nascita del Comitato Addio Pizzo di Catania. Infine c'è Alfonso Bonafede, siciliano di nascita ma toscano di adozione, ha fatto parte del direttorio politico del Movimento 5 Stelle nella scorsa legislatura. Bonafede, avvocato, è nato a Mazzara del Valle il 2 luglio del 1976, ma dal 1995 abita a Firenze dove si è laureato in giurisprudenza e dove è rimasto collaboratore come cultore di diritto privato e dove ha conosciuto Giuseppe Conte, docente di privato nello stesso Ateneo. È stato Bonafede ad avvicinare Conte al Movimento 5 Stelle. L'attività politica le inizia nel 2006, quando entra a far parte del gruppo degli amici di Beppe Grillo del meet-up di Firenze. Tre anni dopo si candida alle comunali di Firenze contro Matteo Renzi, racimolando solo l'1,8%. Salgono a nove gli indagati per gli insulti via social rivolti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I PM che indagano per attentato alla libertà e offesa all'onore al prestigio del Capo dello Stato. Hanno aggiunto altri sei nomi ai tre di cui due palermitani già noti da qualche giorno. Salgono a nove gli indagati per gli insulti via social rivolti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I PM che indagano per attentato alla libertà e offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato. Hanno aggiunto altri sei nomi ai tre di cui due palermitani già noti da qualche giorno. I nuovi indagati sono stati individuati mettendo ai raggi X i profili Facebook e Twitter dei primi inquisiti. I reati ipotizzati dal codice penale prevedono pene fino a 15 anni, collegate anche alle aggravanti che è possibile ipotizzare. I primi indagati avevano fatto riferimenti al fratello di Sergio Mattarella, Pier Santi, ucciso dalla mafia, con offesa anche a lui o con frasi che auguravano al Capo dello Stato di fare la sua stessa fine, assassinato quando era Presidente della Regione Siciliana il 6 gennaio del 1980. Qualche leone da tastiera nascondendosi dietro un profilo finto sogna addirittura un accidente in diretta tv e qualcuno arriva anche a chiederne la messa in stato d'accuso e l'esecuzione mentre si sprecano i viverremo a prendere i la pagherete. Parole violente e inascoltabili, soprattutto quelle che incitano all'aggressione e che minacciano la morte. Insomma, la non formazione del governo dei giorni scorsi ha scatenato le ire di una buona parte degli utenti dei social che però adesso dovranno far fronte a non pochi problemi, assumendosi in toto la responsabilità, la pesante responsabilità di quanto affermato. L'indagine comunque è ancora in corso e nei prossimi giorni il numero degli indagati potrebbe ancora aumentare. Evasione fiscale e fatture false. La Guardia di Finanza ha sequestrato mezzo milione di euro ad un imprenditore gelese. La Guardia di Finanza di Gela ha sequestrato conti correnti ed un immobile ad un imprenditore gelese per un valore di quasi 500 mila euro. L'intervento dei finanzieri è avvenuto al termine di un'articolata e complessa attività di verifica nei confronti di una società di Gela operante nel settore della lavorazione di prodotti ortofrutticoli. Troppo contraddittorio era lo scenario che si era aperto ai finanzieri quando anni addietro avevano fatto irruzione in un capannone industriale. In quell'occasione i militari avevano trovato 43 lavoratori intenti al confezionamento di ortofrutta, di cui 26 erano completamente in nero. I finanzieri volevano vederci chiaro e che si sono stati avviati vari approfondimenti. La contabilità, i conti, le prassi commerciali. In sei mesi di indagini è stato ricostruito il reale volume d'affari della società e scoperto fiumi di fatture false che fino ad allora erano state utilizzate esclusivamente per gonfiare i costi e ridurre al minimo il reddito, evidentemente troppo alto e che avrebbe comportato una tassazione cospicua. Tutto ciò era possibile grazie anche alla compiacenza di altre ditte individuali operanti nello stesso settore che ben si erano prestate ad emettere fatture false per poi non dichiarare nulla o addirittura scomparire dal mercato. Il titolare, insieme ad altri operatori del settore, è stato quindi subito segnalato alla locale autorità giudiziaria per utilizzo ed emissione di fatture false. A conclusione dell'attività di polizia economico-finanziaria, le indagini della Procura della Repubblica di Gela hanno accesi i riflettori su una politica aziendale oscura e finalizzata esclusivamente a sottrarre ricchezza al fisco. Scoperto il meccanismo di frode, il sostituto procuratore ha immediatamente chiesto ed ottenuto il sequestro preventivo del maltolto. Il GIP e il Tribunale di Gela quindi ha messo un decreto di sequestro preventivo per equivalente di conti correnti, beni mobile ed immobile della società, fino alla concorrenza di mezzo milione di euro. A Partanna si è svolta la cerimonia per la riconsegna della Chiesa Madre, restaurata con fondi regionali. Presente anche il Presidente della Regione, Nello Musumeci. Il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha partecipato alla cerimonia di riconsegna della Chiesa Madre di Partanna, restaurata con fondi regionali. Il finanziamento di un milione di euro è servito per lavori di restauro conservativo e riqualificazione della struttura. La cerimonia rientra tra gli eventi in occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto del Belice, curati dal coordinamento dei sindaci della valle, presieduto da Nicolo Catania. Alla cerimonia erano presenti anche l'arciprete Antonino Gucciardi e il vescovo di Mazzara del Vallo, Domenico Mogavero, oltre ai sindaci di Calatafimi, Camporeale, Sala Paruta, Gibellina e Poggio Reale. Dell'utilità della Chiesa, ha evidenziato Musumeci, ce ne accorgiamo quando non c'è. Tutti noi sentiamo il bisogno di avere un tempio nel quale ritrovarci e sentirci comunità. E questa Chiesa ha condiviso la storia della sua comunità. Oggi è un giorno importante non solo per Partanna ma per tutta l'area. Mi auguro che questa ricostruzione diventi il simbolo della rinascita della valle. Oggi più che mai in questo momento storico, ha concluso il Presidente, avvertiamo il bisogno di fare rete, di sentirci comunità. Per questo motivo nei prossimi giorni inviterò nel Palazzo del Governo i rappresentanti di tutte le religioni presenti in Sicilia. La Chiesa del Seicento, costruita a opera del barone, Baldastarre Grifeo, venne ufficialmente consacrata al culto nel 1676 e intitolata alla trasfigurazione del Santissimo Salvatore, titolo che ha mantenuto fino ad oggi. Nel 1968 la Chiesa viene danneggiata al sisma. La scossa del 25 gennaio provocò il crollo della facciata, del campanile di destra e delle coperture della navata centrale fino all'arco trionfale che portava all'ampio presbiterio. Nel 1970 iniziarono i lavori di ricostruzione dell'edificio. La facciata e il campanile furono ricostruiti in cemento seguendo l'antico progetto. La mancanza di fondi ha fatto arenare i progetti lasciando incompleti i lavori di ricostruzione. Il finanziamento della regione ha permesso dopo cinque anni di chiusura al pubblico il completamento dell'opera di restauro e la riapertura della matrice. Presentata a Palermo la nuova steagione del Teatro Biondo. Ascoltiamo le interviste al direttore Roberto Alaimo, all'assessore regionale al turismo e allo spettacolo Sandro Pappalardo e a Valentino Piccone. C'è un tema che è riassunto con la formula de generazioni perché tutti gli spettacoli hanno un filo conduttore che è quello della famiglia, intesa anche come società, e di quel nucleo di dolore e di contraddizioni che si trova all'interno della famiglia molto spesso. Allo stesso tempo cerchiamo di indagare le trasformazioni spesso peggiorative che nella società partono dalla famiglia e arrivano nel grande della società. In vista di questa conferenza stampa ho dato un'occhiata ai dati. Abbiamo avuto un incremento del 63% solo degli abbonamenti che si trasformano in un 52% per quanto riguarda le presenze che nell'arco di un anno non sono poche. Apriamo con le rane di Aristofane e con Ficarra e Piccone, poi abbiamo una tempesta di Shakespeare con la regia di Roberto Andò, Renato Carpentieri e un sacco di attori siciliani molto bravi. Poi andando avanti nella stagione abbiamo fra i classici sei personaggi in cerca d'autore con Eros Pagni e il ritorno di Slava, questo per le famiglie, un spettacolo di circo che è molto amato dai bambini. E chiudiamo con il Don Giovanni di Mozart rielaborato dall'orchestra di Piazza Vittorio che promette di essere una specie di festa della musica che concluderà la stagione. Uno spettacolo scritto da Aristofane che dopo averlo portato al teatro greco di Siracusa con Ficarra che è qui accanto a me che non vedete faremo anche al biondo e siamo molto contenti. La regia di Giorgio Barberio Corsetti è stata una bella esperienza. I teatri si riattivano, siamo tutti contenti perché il teatro è una bella esperienza. C'è la televisione, c'è il cinema, però il teatro, vedere le cose dal vivo è sempre una cosa particolarmente è bella. Tolerano è uno spettacolo molto comico, scritto così da Aristofane, non è che gli abbiamo aggiunto niente noi e nello stesso tempo però far riflettere su alcune cose che sono attualissime, che riguardano la nostra cultura e la politica. Abbiamo veramente delle punte di diamante in regione siciliana, forse non adeguatamente attenzionate e sfruttate in passato. Grande attenzione non solo nella promozione di questi teatri, ma anche dal punto di vista economico. Penso che abbiate notato lo sforzo in un momento sicuramente non favorevole dal punto di vista economico, lo sforzo che la Regione ha fatto nell'assolvere i propri doveri istituzionali nei confronti dei teatri dal punto di vista economico. Grande promozione sui teatri, che chiaramente non si risolve solo nella conferenza stampa, ma nella promozione dei nostri cartelloni in giro per il mondo. Abbiamo iniziato dalla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, per poi proseguire con Berlino, Malta, Mosca, stiamo portando in giro per il mondo gli spettacoli, i nostri cartelloni, perché abbiamo veramente delle punte di diamante, abbiamo dei teatri che il mondo ci invidia, ma non li possiamo utilizzare solo e esclusivamente per gli spettatori della nostra regione, ma li dobbiamo promozionare in tutto il mondo. Anche all'aeroporto Fontana Rossa di Catania arriva Digikiosk, totem digitale per scoprire la Sicilia dell'Est. New entry all'aeroporto Fontana Rossa di Catania, che apre le porte alla tecnologia di Digikiosk, un totem multimediale che tramite una consultazione touch semplice e intuitiva offre informazioni utili in italiano e in inglese a chi atterrato nel capoluogo etneo e in cerca di itinerare di viaggio per scoprire la Sicilia Ionica. Abbiamo sposato questa iniziativa perché ci fa piacere non soltanto lavorare sui numeri, comunque ci consegno ogni mese un nuovo record, ma molto sulla qualità, in particolare su quelle informazioni che spesso si cercano appena si arriva a Catania o che possono essere ricercate da chi magari aspetta un parente o un amico in aerostazione. Questo è un progetto dinamico, giovane, che ci fa piacere, possa essere utilizzato in maniera veloce, sostanzialmente attraverso un mega smartphone e crediamo che potrà esserci utile. È un progetto nuovo, moderno, che magari speriamo anche possa essere in questo caso mutuato da altri aeroporti e che così Catania per una volta possa fare da modello. Non solo quindi Catania, Etna ed intorni, ma anche Siracusa e Taormina, a seguire anche Ragusa e la sua provincia. Le mette più richieste da milioni di turisti che sbarcano ogni anno a Fontana Rossa. Il DigiCiosk, gemello di quello installato un anno fa in Piazza Duomo a Catania, è un progetto di Industria 01, editore di CityMap, prima mappa cartacea della città, e di TechLab Works, azienda high-tech catanese e propone non solo itinerari tematici nei siti monumentali o di interesse culturale, ma anche informazioni pratiche su come raggiungere queste mette con i mezzi di trasporto, dove e come alloggiare, quali sono i locali tipici per degustare la migliore gastronomia e la celebre pasticceria siciliana. Completa l'offerta di informazioni nella rete di DigiCiosk, un calendario costantemente aggiornato, sia sui principali eventi in Sicilia, come feste popolari, sagre e tradizioni, che sugli appuntamenti estemporanei, come concerti, spettacoli, teatri, moste d'arte ed escursioni naturalistiche alla scoperta del paesaggio, della flora e della fauna siciliana. Dopo l'aeroporto di Catania, spiegano Industria 01 e TechLab Works, è Piazza Duomo che in un anno ha registrato 30.000 visualizzazioni di pagine con itinerari ed eventi culturali, stiamo lavorando alla creazione di una rete di DigiCiosk, che collegheremo nelle altre province siciliane servite dallo scallo di Fontana Rossa, con l'obiettivo di consentire ai turisti una maggiore fruizione del territorio, garantita dal costante aggiornamento del totem, consultabile 24 su 24, 365 giorni all'anno. Questo totem, quindi la navigazione delle informazioni, diventa ancora più smart, potendo geolocalizzare i punti di interesse, calcolare quindi percorsi, vicinanze e attrazioni da fare nei luoghi più adiacenti. Intanto si arricchisce la rete di destinazioni servite dall'aeroporto di Catania, con ben 97 voli diretti per tutta la Summer 2018. In attesa del volo per Dubai, giornaliero dal 13 giugno, al via anche il collegamento bisettimanale con Pescara, mentre dal 1 giugno cominciano i voli bisettimanali con Nant. Dal 1 luglio, poi, nell'ambito delle rotte sociali, Catania sarà collegata per la prima volta in assoluto con Pantelleria. 4. Le frequenze settimanali durante l'estate con la Perla Nera del Mediterraneo, grazie alla compagnia danese DAT, che opererà anche sulla Bedusa. La DAT, infatti, si è giudicata alla gara d'appalto per garantire la continuità territoriale con le isole minori per i prossimi tre anni. SAC, nel frattempo, prosegue con l'obiettivo di potenziare la rete di connessioni nazionali europee ed ex-europee dell'aeroporto di Catania. Super Enalotto ha ancora un 5 a Vittoria, vinti 80 milioni di euro. Seconda vincita al Super Enalotto a Vittoria nel giro di due settimane. Il jackpot è stato solo sfiorato per un giocatore del Ragusano, che però nell'ultimo concorso ha centrato un 5 da 80.853 euro. La schedina vincente è stata convalidata presso il punto vendita a Bar Tabacchi Fratelli Renda in via Garibaldi 411. Il jackpot, nel frattempo, vola a 41,4 milioni di euro. Lo scorso 18 maggio era stato centrato un 5 da 165.493,77 euro. La schedina era stata convalidata nel punto vendita Sisal Tabacchi in poco, situato in via Giacomo Leopardi 127 a Vittoria, mentre a Messina lo scorso 13 aprile un altro giocatore centrò un 5 da 13.000 euro. La schedina vincente fu convalidata al ritrovo Porta Messina in via Calabria. L'ultimo jackpot realizzato è stato da 130,2 milioni di euro, che sono finiti lo scorso 17 aprile a Caltanissetta. La somma è stata nel punto vendita Sisal Totocalcio Super Enalotto ed Icola Totip Trissi, situato in via Vitaliano Brancati 15 a Caltanissetta. Quella di Caltanissetta è stata la quinta miglior vincita di sempre. Il regolamento del Super Enalotto prevede che la somma della vincita del jackpot venga accreditata entro 91 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale. Il giocatore siciliano potrà riscuotere la vincita il prossimo martedì 17 luglio. Anche per questa edizione è tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento ai prossimi notiziari di Media News.